allora lo spezia fa un grande risultato a perugia vince 3 a 0 mi viene una battuta che chi di rigore ferisce di rigore perisce perché la scorsa settimana perugia aveva vinto sul campo della juve stabbia con due calci di rigore tra l'altro non tutti proprio così solari oggi ne subisce due secondo me c'erano entrambi riguardando le azioni anche al rallentatore e subisce una sconfitta cociente pesante anche secondo me sotto il profilo del gioco occasioni del perugia poche mi ricordo un colpo di testa di ghiomber un tiro non possiamo ancora definire il tiro insomma centrale veramente uno straccio al suppo da parte di jemmello mentre invece spesso quando ti attacca a folate fa male fa molto male il primo rigore è stato trasformato da Matteo Ricci impeccabile trasformazione spiazzando il portiere poi c'è stato su una bella azione Bartolomei mi sembra che si presenta dentro l'avia sul versante destro la mette dietro Enzola fa il 2 a 0 questo nella ripresa e poi su un altro bel contropiede ciasi che prova il passo doble e viene atterrato se non sbaglio sempre da ghiomber anche questo rigore abbastanza netto e si presenta il gemello questa volta sul dischetto Federico Ricci che spiazza il portiere fa 3 a 0 per cui è una vittoria importante e niente aspetto i vostri commenti io purtroppo non ho visto la gara perché stavo seguendo Torino Sampdoria ho visto gli highlights estesi per cui mi sono fatto più o meno un'idea però chiaramente aspetto voi che avrete sicuramente visto la gara con magari dei giudizi più precisi un focus più preciso che magari a me può essere sicuramente sfuggito